È drammaticamente vero che 270 euro al mese è l'assegno che prende un disabile, ed è drammaticamente vero che 1.350 euro al mese, IVA compresa, quanto costa, non prende direttamente, ma le cooperative e le associazioni che lo seguono, un immigrato clandestino presente sul territorio nazionale. Abbiamo visto come è successo con Mafia Capitale, il cara di Mileo, abbiamo chiesto una commissione di inchiesta, che speriamo venga calentarizzata questa proposta nel mese di maggio, affinché venga detto e chiarito come vengono spesi questi soldi, chi li ha in mano, a chi li dà e dove finiscono. Perché non vorremmo che la questione di Mafia Capitale, dove i clandestini rendono più che la droga, fosse un vezzo diffuso sotto il territorio nazionale. Per quanto riguarda invece la dieta di cui parlavamo prima, per i nostri cittadini, io non credo sia un vanto il fatto di aver fatto la patrimoniale come i mutari, i tasi, quanto è, perché è stato un massacro per la nostra gente, è stata una patrimoniale sì, ma anche le persone che hanno di meno. Non credo che sia un vanto aver aumentato i conti correnti come una tassazione fino al 26% sugli interessi, perché là dentro ci sono anche i 1.000 euro, i 2.000 euro che magari il pensionato mette in banca per avere qualcosa da dare ai propri figli e ai propri nipoti e farli andare avanti. Non credo che sia un vanto, non credo che sia un vanto neanche dire che sono diminuite le tasse, e dico che non è un vanto perché non è così. L'Istat ci dice che quest'anno la tassazione rimarrà identica rispetto al 2014, anno nel quale era salita, seppur di poco. Lo stesso DEF del governo dice che nel 2016 salirà rispetto addirittura al 2015, arrivando addirittura al 44% dal 43,5% e il trend è quello. Quindi o ragioniamo su dati veri, noi siamo disponibili a ragionare con chiunque, dall'estrema destra all'estrema sistema non ci interessa.